uno live ciao a tutti bentornati sul canale della Trafol Academy come ogni lunedì siamo qui col Tolkien Trafol insieme al dottor Dario Capogrosso dell'allevamento Cacao Meravigliao ciao Dario buongiorno a tutti buongiorno Davide buongiorno Sergio Sergio Mustica il nostro micologo di fiducia che oggi ha qualche problemino nell'ascoltarci però si dovrebbe sentire bene quel quel che dice quindi abbiate un po' di pazienza e lasciamo un po' di tempo a Sergio per cogliere il messaggio forte chiaro ciao Sergio ciao Davide buonasera a tutti perdonate la connessione questa sera non sarà proprio eccellente però ci proviamo dai perfetto allora vedo che già la chat si sta muovendo Giovanni Martino scusate Giovanni Martino buonasera Gianluca anti urban man buonasera Gianluca Maioli Matteo Fantini Arianna Galassi Juan Pierrera Giorgio Baldi buonasera ragazzi un saluto a tutti Giorgio Dario buonasera Francesco Cicare Matteo Fantini buonasera Pietro Cristaudo un saluto dal Belgio eh Giorgia Giorgio Dario Francesco Cicare la già fatti Ferdinando buonasera Luca Pacini Costantino Madadu Simone Fulignati buonasera buonasera a a tutti Fabio Tibera Laura Crap eh Giorgia Dario cosa dice dai Sergio forza sei assolutamente indispensabile Luigi Spinosa buonasera Carmine Iuliano buonasera a tutti voi prima di partire vi ricordo che già durante la diretta potete lasciare un un like eh questo aiuterà l'algoritmo di YouTube a far circolare meglio questi contenuti e farli eh renderli più visibili e se ovviamente se non l'avete ancora fatto cliccate sul tasto qua sotto iscriviti per iscrivervi al canale e ricevere tutte le notifiche dei nostri prossimi video e delle nostre prossime dirette quindi se non l'avete ancora fatto cliccate su quel tasto intanto ringrazio i gli abbonati i neo abbonati del 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 canale il benvenuto al nell'osteria del tartufo Matteo Fantini Guido Arneudo Gianluca Maioli Arianna Galasso Tommaso Ciuffini Stefano Salvatore Jacks 88 Marco Cappu Dario Barbin Marco Tittini Nicola Dall'aglio Ambra Repossi e l'ultimo arrivato Pietro Cristofani vi ricordo che se anche voi potete volete far parte ed entrare nell'osteria del tartufo potete farlo cliccando sul tasto abbonati che c'è qua sotto per chi invece visto che l'altra volta perché invece si volesse abbonare ma non riusciva vi lascio qua il link che diventa tutto più semplice in questo modo darete un sostegno al canale della Traffola Academy cui contenuti restano comunque liberi ma avrete anche qualche piccolo vantaggio ad esempio nel caso di molte domande sarete i primi a cui verrà letto il commento ci saranno delle dirette dedicate per per gli abbonati e comunque se cliccate o sul tasto o sul link che vi ho messo in in chat potrete leggere un po' tutti i vari i le varie ricompense per l'abbonamento ma soprattutto è un gesto ben ben accetto di sostegno appunto perché i contenuti sono tutti liberi so che molti di voi li seguono da da tempo e se avete voglia di partecipare attivamente alla vita del del canale questo può essere un ottimo un ottimo modo quindi lì c'è il tastino abbonati e sarete benvenuti nel gruppo privato di facebook si chiama appunto anche la locale l'osteria del tartufo quindi partiamo allora Sergio almeno io ti sento bene quindi partirei farei subito un'introduzione visto che l'argomento di questa sera è la caccia la caccia al al bianchetto partirei subito con un'introduzione sul tartufo bianchetto ne abbiamo già parlato in altre dirette ma è sempre bene un un refresh quindi a te se vuoi te lo posso anche mettere in vista ok va bene allora il tartufo bianchetto il il tartufo bianchetto è come tutti gli altri tartufi che abbiamo abbondantemente trattato nelle scorse dirette è un fungo ascomicete ipoiceo del genere tuber per chi non ci ha seguito e magari la prima sera che ci segue fungo significa che è un taxon che appartiene al regno dei fungi ascomicete è perché appartiene alla divisione ascomicota ossia di quei funghi che si riproducono per mezzo di asco spore che appunto sono quelle quelle cellule adibite alla riproduzione sessuata che si generano all'interno dei cosiddetti aschi per dire gli altri funghi epicei come ad esempio i porcini o gli ovuli che andiamo a cercare nei boschi sono basidi omiceti quindi le spore si vanno a creare in delle cellule che si chiamano basidi ipoiceo significa che vive sotto il pelo del terreno e epiceo si contrappone ipoiceo si contrappone ad epiceo che significa appunto che si accresce e si riproduce al di fuori del terreno il genere tuber il tuber è un genere appunto di questi funghi ipocei e tutti quanti i tartufi che sono commercializzabili e dal riconosciuto valore gastronomico sono i tartufi del genere tuber quindi già il cerchio si restringe molto il tartufo bianchetto si chiama tuber borki da lo studioso che lo che lo descrisse per primo che appunto de bork e in italia è chiamato bianchetto marzuolo marzaiolo in base a alla regione e all'area geografica se centro nord e sud italia ed è conosciuto anche oltre alpe i cucini francesi da sempre ne apprezzano le caratteristiche organolettiche pur predilicendo altri altre tipologie di tartufi infatti francesi lo chiamano blanche du piemont che significa bianco del piemonte non non mi dite per quale motivo ci chiamano il bianchetto e non il tartufo bianco però da bibliografia è così e l'area di diffusione di questo tartufo in italia è praticamente coincide con tutta la penisola italiana isole incluse e volendoci spingere anche in europa è diffuso anche in gran parte d'europa perché più o meno dalla sicilia fino ad arrivare in in finlandia è un tartufo ampiamente diffuso se non ricordo male nei paesi un po più freddi come possano essere alcune alcuni domini dell'unione sovietica mi sembra anche in ungheria in polonia è diffusa una varietà che dall'odore nauseabondo scarse caratteristiche organolettiche che è una varietà del tuber borki che se non ricordo male si chiama sferosperma ed è una varietà dalle scarse caratteristiche organolettiche il periodo di maturazione di questo fungo ipoceo dai primi di dicembre solitamente fino a tutto il mese aprile anche i primi di maggio ma allo stesso modo del tartufo nero estivo del tuber estivo un vittadini tende a manifestarsi più o meno incostantemente anche in periodi al di fuori di quelli che ho appena citato per dire insieme a Dario ne abbiamo trovato un abbiamo trovato una scocarpa molto profumato non mi ricordo che era novembre ottobre Dario che mese no Dario Davide che mese era quando mi sei venuto a trovare cos'era novembre novembre ok novembre quindi comunque sia in in quantità sicuramente rilevanti però è possibile trovarlo anche in periodi al di fuori dei periodi di raccolta un po' come accade per il tartufo nero estivo dal punto di vista morfologico questo ascoma è contraddistinto e contraddistinto da un asco carpo per di più tube di forme quindi la conformazione più o meno quella degli altri tartufi è arrotondato è molto tirato si trova l'obato ciboso tende sempre ad essere più o meno regolare anche perché la taglia media è relativamente bassa parte dai tre quattro centimetri diametro medio fino a arrivare più di rado a un diametro di sette dieci centimetri e pezzature sopra i cento centocinquanta grammi sono ritrovamenti degni di nota parliamo che forse centocinquanta grammi no ma sopra i due tre etti si parla di due tre ritrovamenti l'anno per lo meno quelli che possono essere documentati dal punto di vista scientifico il peridio che appunto per chi non ci ha seguito nelle scorse dirette è lo strato che ricopre l'asco carpo sia il tartufo e di color bianco biancastro bianco cessoso e questo tartufo è uno dei tartufi che si esprime con uno spettro di colori più variegato perché cambia dal bianconeve fino a diventare un ocra chiaro tendente al bruno rossiccio quindi anche complice il grado di maturazione il peridio può avere colorazioni che variano per un ampio spettro sono molto frequenti le maculature rossoruggine poi solitamente nei giovani esemplari la superficie è finemente pubescente pubescente che cosa della pubescenza che cosa è in botanica è la copertura di una superficie da una peluria di varie da una peluria di varia natura appunto una fine peluria e questa fine peluria è dovuta a un abbondantissima presenza di ife che sono quelle ife di nutrizione di accrescimento che vanno a nutrire vanno a nutrire il tartufo nella fase saprotrofa quindi quando il tartufo si stacca dal fungo madre che appunto è fatto dal micelio che è la germinata e si accresce e vive di vita propria andandosi a nutrire dei composti organici naturalmente dispersi nel terreno questa è la fase saprotrofa che dura circa tre quattro mesi prima dell'ingresso a maturazione abbiamo detto il peridio ci manca la polpa la gleba e la gleba di questo tartufo è inconfondibile perché a parte che sono tartufi discreti e a maturità sono la polpa e ocre o rossastra fino a rosso bruno e le vene sterili si possono presentare di dimensioni e marmorizzazione marezzatura molto molto variabile da carpoforo a carpoforo diciamo che ecco questa qui che ha proiettato adesso Davide è una sezione caratteristica di un bianchetto in ottimale stadio di maturazione in questa fase il colore si avvicina un pochettino a quello del tartufo bianco però tende molto in fretta a diventare più scuro e solitamente le vene sterili sono molto più grossolane la polpa poi è meno di colore meno omogeneo è più anche la parte del limenoforo in cui si vanno a maturare le spore tende ad essere finemente percorsa da texture che la rendono comunque irregolare e non del tutto con colore e vabbè poi andando in dettaglio un pochettino più tecnici le asco spore sono di colore giallo bruno e se uno volesse fare una microscopia sono abbastanza caratteristiche in quanto sono eh asco spore con epispore alveolato gli alveoli sono piccoli e sono generalmente esagonali o pentagonali e per lo più irregolari e questo è l'inquadramento più o meno del Sergio no volevo dire no intanto volevo ringraziare Giorgio Dario per la donazione al canale grazie Giorgio e questo è un altro modo che potete utilizzare per sostenere il canale grazie no volevo dirti ci vuoi dire anche un pochino più della dell'areale come piante simbionti beh no l'areale ce l'hai detto però sul terreni territori sì sì possiamo possiamo parlare degli habitat e delle piante delle piante simbionti assolutamente ci stavo per arrivare allora ricordiamo diciamo per la prima volta a chi non ci ha seguito in passato che il tuber borki insieme al tuber estivum in Italia ma anche in Europa è il tartufo più ubiquitario infatti può con può passare a condividere l'habitat del tartufo bianco fino a spingersi nelle piene nelle piene del litorane e a condividere l'habitat del tartufo nero preciato il tuber estivum quindi è un tartufo dalle esigenze ecologiche molto molto meno eh diciamo un tartufo che non c'ha particolari esigenze ecologiche e tende ad esprimersi a differenza degli altri tartufi anche in suoli su balcalini tendenti all'acido non di rado si trova in suoli che sono anche acidofili ai margini di castagneti o comunque sia in zone notoriamente notoriamente acidofile e le piante simbionti del le piante simbionti del tartufo bianchetto sono innumerevoli quelle più rilevanti sono i gimeno sperme perché sono quelli che fanno anche dimensioni più considerevoli nonostante nella mia zona è il contrario li fanno più piccolini le pinete piuttosto che gli ostreti però diciamo che da bibliografia e anche dalle testimonianze che ho potuto dalle mie testimonianze personali ho sempre sentito che nelle pinete eh vengono i tartufi bianchetti di dimensioni più più importanti che possono arrivare fino alle dimensioni medie di un albicocca quindi belle dimensioni tornando a noi un'eccellente pianta simbionte è il pinus pinea che appunto è il pino domestico e anche il pino nero il pino di aleppo il pino di aleppo si vorrebbe chiamare pinus aleppensi se non ricordo male poi il pino silvestre comunque sia tante essenze arbore del genere pinus entrano in simbiosi con il bianchetto mentre per quanto riguarda abbiamo perso Sergio per un attimo che tornerà intanto benvenuto a Nicola dall'aglio ritardo scusato ci mancherebbe ci mancherebbe altro ma vedo che sta rientrando da un'altra parte intanto lo aggiungiamo di nuovo eccoci Sergio scusate stasera ci abbiamo un po i problemi dove mi avete perso ma è proprio l'ultime le ultime parole dopo il pino d'aleppo a ok dopo il pino aleppo vabbè c'è sta pinus silvestris e anche altre essenze arboree del genere pinus quindi cimnosperme che sono ottime piante simbionti volendo parlare di angiosperme una essenza arborea che stringe eccellenti micorrize con il tuber borki e di sicuro la roverella che diciamo in micologia anzi in idnologia che la scienza che studia i tartufi la pianta sciolli insieme al tiglio la roverella perché stringe simbiosi con con tutti i tartufi che ci interessano praticamente e poi ricordiamo il cerro il faggio cisto rosso più più bianchi e neri quindi diciamo che anche grazie alla sua estrema ubiquità riesce a stringere simbiosi con la maggior parte dell'essenza arboree andando a inquadrare oltre alle piante simbionti anche l'aspetto un pochettino più geologico degli areali di raccolta possiamo dire che questo fungo poceo predilice quei terreni calcario argillosi sabbiosolimosi o anche semplicemente sabbiosi come quelli lungo le aree litorane e tollera il pH dal calino fino fino a subacido una caratteristica molto importante di questo genere di fungo poceo è la profondità di in cui tende a crescersi a manifestarsi che di solito è molto molto superficiale per dire nelle pinete si trova solitamente a pelo del terreno sotto gli aghi di pini questa cosa poi ci dirà anche davide è particolarmente importante per la formazione dei cuccioloni quindi è anche uno di quei tartufi che si presta molto bene al dressaggio dei cani o al recupero comportamentale sul tartufo dei cani che magari hanno perso un pochettino la voglia di cercare perché oltre alla facilità con cui si riesce a rinvenire perché è molto superficiale nelle nelle tartufaglie nelle pasture nei nelle annate buone e nelle nelle tartufaglie migliori si fanno centinaia di buche quindi se uno c'è un cucciolone che tende a distrarsi o quant'altro c'è una buona possibilità che vada all'incontro magari su cinque ne trova uno però a forza di trovarli col fatto che ci sono tanti il cane si dressa bene questo insieme al tartufo nero estivo che rispetto al bianchetto purtroppo è più attaccato dagli zappatori ossia da quelle persone senza scrupoli che tendono a fare lavorazioni andanti del terreno con la finalità di lucrare sui tartufi acerbi col bianchetto non accade però ecco il tartufo nero estivo insieme al bianchetto sono quelli che si prestano meglio per il dressaggio dei cani e non so un genere davide allora aspetta no stavo cercando ecco un'altra mi sentite sì sì ti sentiamo bene sergio no niente un'altra purtroppo non si vede molto bene però avevo degli altri esemplari di bianchetto questo anche per farmi vedere comunque la copiosità questa è stata l'apertura di quest'anno e comunque anche in in poco tempo in pazzoletti di terra ridotti si riescono anche a fare queste sono tutte pezzature molto piccole ma per appunto per dressare i cani è un ottimo un ottimo tartufo ma poi ci arriviamo allora c'è Arianna ga intanto gravi il du pace benvenuto all'osteria del tartufo nuovo membro e abbonato grazie a voi e poi vi aggiungo al al gruppo privato di di facebook dove scambiarci un po di consigli di c'è Arianna galasso che ci fa una domanda che proprio era l'argomento con cui volevo introdurre il dottor Dario Capogrosso che abbiamo tenuto ai blocchi di partenza fino adesso durante l'introduzione di Sergio che significa cosa significa caratteristiche che deve avere il cane c'è differenza con la ricerca di altri tartufi no allora Arianna poi ci sono delle differenze secondo me con altri tartufi ma non era questo tanto il senso quanto ci sono tartufi che per stagione particolare ad esempio come può essere il bianco o l'estivo che cresce appunto l'estivo viene fuori in momenti caldi questo comunque parte ormai almeno qui dalle mie parti gennaio febbraio è un po' il periodo più freddo più freddo dell'anno volevo chiedere appunto a Dario le caratteristiche del cane nel senso ci sono poi Dario si occupa nel mondo del tartufo principalmente di di lagotti ma a che fare anche con con altre razze di cane che che alleva e comunque in quanto dottore ne ha ne ne conosce differenti e in generale conosce la struttura del cane la domanda sulla struttura del cane era un po' per le caratteristiche appunto che ci diceva anche Sergio del del bianchetto quindi areale periodo dell'anno ci sono caratteristiche particolari che il cane deve avere so che ci sono razze che sono dimostrate magari più freddolose cani che resistono meglio al freddo cani che invece soffrono tanto il caldo quindi se ci sono delle delle razze privilegiate e perché alcune possono essere privilegiate d'altre non so se è chiara la domanda Dario vuoi che si si la domanda la domanda è chiara e sicuramente diciamo l'introduzione fatta da Sergio è stata ottimale insomma un'ottima base per il proseguire il discorso è sempre molto preciso e puntuale e ha effettivamente detto quello che poi c'è da dire il il bianchetto ha la grandissima fortuna di essere un campo di allenamento eccezionale eccellente un po per tutti i cani in una stagione come dire interlocutoria in cui la cerca del bianco il maniato un picco è finita e ci apprestiamo anche alla stagione estiva per coloro che in qualche maniera sono avvezzi a cercare appunto il terzo estivo in tutta Italia quindi sicuramente per la mole la concentrazione di piccole pepite di bianchetto nelle nelle pasture eh il bianchetto la ricerca del bianchetto è sicuramente ehm il modo più efficace per potenziare quelle che sono le capacità di cerca e concentrazione dei nastri cani ehm lì dove appunto per per motivi dei più svariati dovessero aver perso un po di verve o per in qualche maniera fare un'ottima transazione sul naturale eh sui cani abituati a cercare ehm diciamo che si stanno come dire a provinquando alla cerca alla cerca del tartufo per cui sicuramente il bianchetto è un è un qualcosa che la natura ci offre appunto anche in terreni molto spesso anche più comodi volendo eh rispetto a ehm pasture di altri tartufi eh in cui potersi allenare in cui potersi divertire e anche perché essendo in qualche maniera anche meno ambito eh dai tartufai eh le pasture sono lasciate un attimino più tranquille e quindi normalmente c'è una buona replica di quello che magari negli anni precedenti c'è stato eh ovviamente meteorologicamente permettendo eh nelle pasture anno dopo anno quindi sicuramente questo è il è il primo segnale il primo messaggio che va dato eh eh mi ricollego a quanto da Sergio il bianchetto visto le sue capacità di e versatilità di ehm di necessità appunto eh come specie eh su tutti su su tanti tipi di terreno è presente un po' su tutto il territorio italiano e anche e anche e anche altrove anche oltre ovviamente per cui diciamo che dalle pinete dalle dalle pinete del sud Italia a le colline eh del Piemonte appunto eh lo troviamo in situazioni anche eh molto molto mh facili eh e diffuse sul sul territorio quindi ora sicuramente sicuramente questo è il è quello di cui bisogna parlare e tu mi dicevi se ci sono cani mi chiedevi se ci fossero potessero essere cani più o meno indicati eh per la ricerca del del bianchetto la risposta è fondamentalmente no per una serie di motivi ehm perché è vero che è d'inverno e quindi sicuramente i cani a pelo corto potrebbero potrebbero patire leggermente di più il freddo ma è anche vero che tendenzialmente non bisogna eh affrontare percorsi particolarmente imperdi tra rovi e tantomeno comunque sia andare nel fondo valle per cui perché molto spesso troviamo in eh situazioni molto più comode e agevoli e il cane vista appunto la concentrazione di ehm di di bianchetto eh in un fazzoletto di terra quindi non troppo esteso è un cane che comunque mantiene alta la concentrazione ma alta l'attività e per cui fondamentalmente il cane in un pezzo del bianchetto può soltanto migliorare quelle che sono le sue performance di cerca quindi questo questo quanto ecco dire tanto di più è un po' complesso se non vogliamo in qualche maniera eh ecco è quello che mi sento di dire ecco in questa situazione comunque sì la pineta però appunto ad esempio ci sono anche pineti che vanno sopra i mille metri in questo periodo anche anche innevate quindi sicuramente eh sono non so se c'è qualche possessore di bracco italiano qua in in chat ad esempio avevo sentito che un pochino come razza soffre il freddo io non ho mai avuto modo di conoscerla direttamente però del relato avevo sentito questo quindi eh magari appunto essendo l'areale così vasto se uno cerca in una pineta marittima a livello del mare è un discorso salire in quota proprio perché appunto ha degli habitat così vasti magari può creare dei dei problemi oppure appunto comunque sì è vero che quando si arriva magari nel posto può essere pulito però comunque o abbiamo riperso riperso Sergio oppure delle qualità di mantello particolari beh allora sicuramente come sai come come penso tu è tornato scusa parliamo sempre di razze quindi nel senso effettivamente devo sempre pensare che potrebbe essere il video seguito per la prima volta da qualcuno eh diciamo che ci colleghiamo appunto più alla qualità della razza eh mi spiace di essere ripetitivo ma il lagotto fondamentalmente è un è un è una razza di cane che appunto per le sue caratteristiche ehm morfologiche appunto del mantello di presenza appunto della del riccio della in qualche maniera ehm proprio per come per come è composto il suo mantello si pone sicuramente eh in una posizione eh privilegiata per come dire eh per per la resistenza eh a determinate situazioni ehm meteorologiche eh e appunto di di stagionalità quindi sicuramente il mantello del voto lo porta a non avere grandi sofferenze eh nella cerca insomma mh varie situazioni cioè se parliamo di sofferenza eh ma mi piace non mi piace mai parlare di quello che non conosco mettiamolo così io non sono mai andato eh in alture elevate nonostante la vastità ehm della 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 reale del bianchetto quindi ipotizzare una sofferenza a parte di qualche razza particolare mi viene un po' difficile mettiamola così sicuramente io penso che cani con un mantello più folto cani in qualche maniera con anche una massa eh magari anche più elevata della della gotto possano avere delle reazioni differenti però ecco eh andare a maniato un picco è decisamente più più impegnativo per quanto mi riguarda ecco. Daria era una domanda non devi trovare una risposta. Sì probabilmente mi sto per forza. Nel senso mi sembra una cosa divertente ecco io vedo io il bianchetto ecco sbaglierò ma il mio la mia ehm la mia impastazione mentale sul bianchetto è che è veramente figo arriva il bianchetto ci si diverte con i cani ed è sempre o quasi sempre una festa ecco quello è il è il mio è il mio punto di vista su questo eh. Sergio eh Matteo Fantini ci chiede ci sono collegamenti tra funghi e tartufi per individuare delle tartufaie? Scusa ho sbagliato a leggere io. Ci sono collegamenti tra funghi e tartufi per individuare le tartufaie? Ho trovato pasture di bianchetto, dei finferli pini e dei lardaioli lecci. Grazie. eh ti ho perso quando dicevi le specie dei funghi Davide me le ripeti? Ha trovato delle pasture di bianchetto eh finferli, pini e lardaioli lecci. allora lardaioli bianchi e lardaioli rossi quindi parliamo di igroforus penarius e igroforus russola e finferli immagino che per finferli intendi o il cantarello scibarius o il cratarello slutescens la finferla. Comunque sia allora partiamo dai dalle cantarellage eh ammesso che anche le cantarellage sono ubiquitarie come il marzuolo però prediligono più eh terreni acidofili però come abbiamo detto il tartufo bianchetto non è particolarmente esigente per quanto riguarda l'alcalinità del terreno per cui potrebbe essere l'unica cosa che eh nell'essere ubiquitari questi funghi che ho detto solitamente prediligono più le peccete eh se parliamo di areale alpino subalpino piuttosto che le pinete anche se per dire cantarello scibarius le varie forme quindi eh il zupro in osus oppure eh l'alburu fesciens il feruginascens si possono trovare anche anche in pineta non so come risponderti nel senso ni ti puoi affidare parzialmente a questa cosa perché parlando di due specie entrambe ubiquitari e galletti e marzuoli secondo me non è molto indicativo seguire i funghi per andarli a trovare con i marzuoli più che leccio scusa con i marzuoli sì perché sono i grofori e più che con i lardaioli quindi con i groforus penarius e groforus russola eh più che sui lecci io direi cerri nelle cerrete sì però anche lì seguire i funghi non è non è una cosa particolarmente proficua quando si tende ad andare a tartufi anzi quindi nonostante possano condividere l'habitat però ecco non non ti direi vai a vedere dove raccogli l'ardaioli ok ah tra l'altro io non non ve l'ho detto perché stasera non eravamo forniti di di cartonato da da esporre ma purtroppo come vi siete accorti luigi ribacco stasera non è qui con noi ha avuto delle vicissitudini a cui far fronte e tornerà lunedì lunedì prossimo purtroppo questa volta non abbiamo il suo il suo cartonato da tenerci vicino per farci forza e per esempio c'è samuele urca ciriscioli che dice appunto la mia cagnolina bastordina similbracco a pelo cortissimo tende a soffrire soprattutto a livello di zampe che diventano tanto rosa da far tenerezza quando questo in situazioni molto molto fredde immagino immagino parli di polpastrelle quindi quello in qualche maniera è sempre una questione di caratina no cioè non tanto del pelo quindi ma quello non è un problema perché è ovviamente un problema di errorazione quindi il fatto che nei cani nei cani i processi di raffreddamento delle estremità sono decisamente meno rischiose rispetto ad esempio quelle dell'uomo vi è una vi è una pressione a livello sanguigno decisamente più alta vi è una maggiore e più facile di errorazione delle estremità per cui il fatto che siano rosa fa tenerezza sicuramente perché magari umanizziamo la sensazione in realtà nel cane nel cane questo è un processo abbastanza che facilmente regredisce sicuramente allora intanto c'è Ferdinando che chiede come è andata con i tartuffi congelati che sta facendo riferimento alla alla allo short che ho messo fuori oggi di della passeggiata che ho fatto con con tabuia dove abbiamo tirato fuori in effetti dei dei brumalini che erano già 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 surgelati praticamente perché erano sotto una trentina di centimetri di neve e vediamo un po c'era c'è Luigi Spinosa con tutta la neve caduta questi giorni i bianchetti rimasti sotto si rovineranno ragazzi vi devo lasciare un secondo perché sento il casino su installa e veramente cinque minuti scusatemi tanto va bene ti aspettiamo tanto faccio questa domanda a Sergio ehm allora i tartuffi come tutti quanti i funghi quando sono a maturazione l'acqua sicuramente non giova quindi se la neve è come quella che sta facendo alle mie parti che è particolarmente acquosa eh il rischio che quelli attualmente maturi e più superficiali li vada a riempire d'acqua a far marcire è abbastanza elevato e ricordiamoci però che siamo all'inizio della stagione perché non è neanche febbraio ancora per cui eh magari si rovineranno quelli in attuale stato di maturazione e poi comunque sia la neve darà umidità e farà accrescere quelli che invece sono in fase di di crescita e sviluppo non ci dimentichiamo mh spazio un secondo ma spero nell'interesse del gruppo che questa è la neve che i vecchi dicevano è la neve degli scorzoni perché è quella neve che sta cadendo a fine gennaio che nelle montagne e nelle zone un po' più in alte eh sfiorerà il mese di febbraio quindi sicuramente prima che si sciolga tutta sarà febbraio ed è quella neve che andrà a nutrire le micorrize delle piante di scorzone per cui a meno di eventi catastrofici quindi parliamo di una settimana dieci giorni in scirocco ad aprile maggio eh di sicuro l'inizio della stagione dello scorzone eh è stata di sicuro eh molto migliore rispetto a quella dell'anno scorso che tutto il mese di gennaio non ha mai più avuto ecco ok Philip Cobetic ci chiede is it possible to find bianchetto in pine forest near sea where there are turistic apartment but no one lives there only summer tourist yes Philip it's possible it's the right habitat for the bianchetto Julia Bravi il where are you from Philip siamo curiosi eh il vostro parere per cortesia un cucciolo di sei mesi a cui piace tanto cercare appena vede il banchetto diventa molto felice e carico domanda si può fare gli esercizi di ricerca durante la passeggiata ogni giorno oppure una volta a settimana allora Giulia è possibile sempre fare esercizi far fare esercizi al cane di diverse di diversa tipologia ovviamente grazie Philip eh di diversa tipologia saranno gli esercizi perché adesso in passeggiata non so se puoi metterti a fare buche e cose varie comunque sì anche durante la passeggiata all'uscita del cane può essere un buon momento per per farlo lavorare un un pochino eh ogni giorno oppure una volta a settimana eh io quando lavoro coi cani tendo a lavorarci ogni giorno per brevi periodi magari anche più volte al giorno però per periodi proprio proprio brevi appunto per mantenere alta quella vivacità e voglia di giocare del cane quindi di togliergli sempre poi un po' il gioco del tartufo prima che lui si si vada ad annoiare quindi prima che ci eh dia segnali di noia interrompiamo il gioco poi ho fatto proprio un video che si chiama la preparazione del cane delle tartufi uno degli ultimi che ho fatto in cui parlo un po' proprio delle diverse dei diversi posti dove andare a fare le simulazioni se vai sul sull' archivio del canale lo trovi e lì parla un po' dei tempi e proprio della differenza tra un luogo ed un altro dove andare a fare le le simulazioni Ferdinando dice la gotilina di massima soffrono un po' il caldo hanno necessità di bere spesso sì un po' tutti i cani in estate comunque hanno bisogno di bere spesso però in effetti si soffrono più il caldo del del freddo vediamo un po' altre domande che abbiamo il bianchetto cresce in habitat come cratellarus lutescens Sergio cratarellus 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 sì cratarellus cratarellus lutescens il discorso che facciamo un po' prima più che pinete io adesso è qualche anno che non vado più a finferle philip quindi perché non c'ho tempo sinceramente comunque un fungo che mi piace molto eh però gli areali di raccolta della finferla sono per lo più abetaie abete rosso quindi eh adesso mi trovate impreparato verificherò se negli abeti se gli abeti alcuni abeti sono piante simbionti del del bianchetto però non mi sembra non ricordo e per non ricordo neanche se le pinete sono piante simbionti della finferla mi sembra di sì però io non come esperienza personale non ricordo di averceli mai trovate per cui a questa domanda purtroppo non ti posso rispondere se se me la ricordi nel gruppo facebook vado a fare una verifica perché non è che mi posso ricordare tutto ecco secondo voi è possibile che la stessa pastura di estivo da anche tartufo bianchetto ovviamente nei rispettivi mesi di raccolta delle due specie sì sì assolutamente è possibile la medesima pastura è chiaro eh se intendi pastura come luogo sì se intendi pastura come pianta è possibile ma prima o poi una delle due specie prenderà il sopravvento questo è quello che abbiamo sempre detto che comunque sia le varie essenze fungine sono tutte in competizione l'una con l'altra gli stessi miceli e la stessa specie che non sono filo geneticamente magari no non è il termine giusto che non sono magari appartengono alla stessa radice genetica eh a monte e possono entrare in competizione solo che se una pastura di tartufo nero brecciato di norcia viene contaminata da un altro micelio più eh resistente sempre di tartufo nero di norcia questa cosa non ci genera perplessità e probabilmente non ce ne accorgiamo nemmeno se una pastura di nero di norcia viene infestata al bianchetto e muore perché soccomba al bianchetto è chiaro che il tartuficoltore non è che sia poi così tanto contento stessa cosa con il tartufo nero estivo nonostante al punto di vista percettivo si tenda più a rassegnarsi al viraggio al nero estivo piuttosto che a tartufi che storicamente sono considerati meno preciati come ad esempio il moscato o il bianchetto per cui Sergio pensa che con con Dario abbiamo conosciuto un tartuficoltore che aveva proprio il problema opposto che il il nero pregiato continuava a scalzargli via l'estivo era in una zona particolarmente boccata a nero a nero pregiato e lui e i boschi intorno davano praticamente solo nero pregiato e in estate la raccolta era nulla quindi ha provato ad inserire l'estivo è riuscito a inserirlo però molte piante gli sono micorizzate comunque ha è arrivato comunque il nero pregiato a scalzare l'estivo dopo dieci anni una bella zona comunque ditemelo che ci vado perché abbiamo avuto segreto non ho ancora fatto uscire il video per paura di vedere i tir che andassero su allora Ferdinando e lo dico a Ferdinando che vi chiede di mostrargli come ci si come ci si abbona allora si clicca sul tasto abbonati per chi si vuole abbonare se no so ho visto che qualcuno ha dei problemi da telefono vi lascio qua sotto in chat dovrebbe arrivare il link ecco copiate incollate questo se non è cliccabile cliccando da sopra arrivate direttamente nella parte dove potete fare potete accedere agli abbonamenti quello lì è il link di youtube se no c'è il tastino già che dico questo visto che è arrivato un po di gente in più dalla partenza se non avete ancora lasciato un like lasciatelo e se non siete abbonati ovviamente abbonatevi al canale ma soprattutto lasciate un like che aiuterà l'algoritmo di youtube a riconoscere come valido questo contenuto e a farlo circolare Ferdinando fammi sapere se finalmente ce l'hai fatta che mi ricordo che anche l'altra volta mi chiedevi come come può come come si si poteva fare ad abbonarsi Giancarlo Ledi himenogaster può convivere con bianchetto mannaggia Giancarlo lì meno gaster se adesso Sergio mi smentirà può convivere con qualunque cosa secondo me veramente invasivo lì meno gaster sì ma più dellì meno gaster il melano gaster quello che dentro c'è l'inchiostro sembra che è un tartufo pieno inchiostro quando se lo mangiano i cani gli diventa la bocca nera macchia tutte le mani quelli sì di base io l'ho trovati in ogni sorta di pastura tranne l'estivo perché non non condividono la stagione di fruttificazione quelli sono proprio dei funghi semi pocei che hanno bisogno di tanta umidità sì comunque condividono l'habitat possono condividere l'habitat sì perdinando finalmente benvenuto anche tu all'osteria del del tartufo poi chiedi per chi si è abbonato adesso io vi cerco su su facebook ma nel caso chiedete di l'accesso a al gruppo l'osteria del tartufo che vi faccio accedere così lì poi ci possiamo confrontare allora un altro argomento interessante che è venuto fuori che strettamente legato al al bianchetto è quello della processionaria adesso ho visto sopra una domanda che non ritrovo più dove chiedevano se c'era processionaria solo nel nel nord est che lui era di Trento sto andando un po' a memoria perché l'ho vista prima e e e che problemi da allora ti posso dire per esperienza che penso che la processionaria almeno fino al dalle mie parti sicuramente sicuramente c'è diciamo che sul bianchetto quando si va soprattutto soprattutto quando si va in in pineta e sì è un problema adesso è un po' un po' presto ancora fortunatamente fa freddo quindi non 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 si sono ancora schiuse e almeno dalle mie parti non se ne trova però quando inizia arrivare marzo l'anno scorso anche abbastanza presto credo non mi ricordo se era già fine febbraio però in alcune pinete dove sono andato già ne avevo ne avevo trovata e per chi non lo sapesse la processionaria è questo brucone che nidifica sui principalmente sulle conifere e ve ne accorgete della presenza di processionaria ancora prima della schiusa perché guardando in alto su verso la cima del pino vedete questi questi ammassi lanuginosi bianchi che sono che sono i nidi dove ci sono all'interno le uova quando schiudono questi questi bruconi scendono e si chiamano processionarie perché stanno tutti insieme fanno proprio delle file fanno questi lunghi trenini di di bruchi che che si muovono tutti insieme sembrano appunto delle processioni da quel punto è arrivato anche il termine processionaria hanno una peluria sopra che è molto urticante sia per per l'uomo ma ancora di più per il cane perché l'uomo comunque anche se la tocca gli crea dei problemi ma spesso il naso il il cane la va a toccare con delle mucose più sensibili quindi magari con la magari dario su questo ci può ci può approfondire meglio l'argomento quindi lascio la cosa sulla sulle mucose del cane lascio parlare del doctor e quindi però è teoricamente almeno i comuni le province le regioni a fronte di segnalazioni di processionaria dovrebbero dovrebbero intervenire per andare a a rimuovere i nidi quindi se le vedete alessandro molinari benvenuto anche a te nell'osteria del tartufo grazie per la membership se le vedete segnalatele il comune dovrebbe il comune o lente di competenza ad esempio io sono un comune molto piccolo che mi ha rimandato alla 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 regione comunque sono delle bestioline che possono essere pericolose adesso non tutte le volte che vedete dei bruchi dovete schiacciarli perché sono processionaria dario attenzioni da avere nel caso della processionaria allora ne abbiamo infatti è strano affrontarlo di d'inverno come problema che viene sempre fuori di primavera quindi quando c'è però meglio ovviamente sempre prevenire che curare allora attenzioni allora diciamo che sicuramente come detto tu è un è un è un animaletto eh abbastanza abbastanza insidioso per i nostri cani semplicemente perché questi queste queste sue come dire escrescenze porticanti possono provocare i cani abbastanza incuriositi dall'animale quindi parliamo specialmente di cani giovani eh delle lesioni a livello della lingua a livello del palato decisamente decisamente importanti e serie che possono portare addirittura l'amputazione del oppure infatti Mario c'è Arianna che ci stava proprio scrivendo ad un mio cane il veterinario dovuto togliere una parte della lingua aveva messo in bocca tremenda esperienza sì eh effettivamente nel senso sembra così banale come problema perché per fortuna sono pochi cani che eh come dire senza eh pensarci troppo ingurgitano e quindi si lasciano in qualche maniera eh attrarre da dalla processionare a queste larve ma eh fondamentalmente lì dove venisse ingerita anche parzialmente una processionare oppure semplicemente eh lì dove eh le come dire questi questi aculei eh presenti sul sull'animaretto eh entrassero in contatto con con la bocca quindi col palato con la lingua sicuramente è una cancrena e come dire una lesioni serie eh della della delle parti interessate sono molto molto importanti e quindi molto spesso devono essere amputati amputate queste parti queste zone io in qualche maniera ho anche assistito a eh situazioni in cui le gengive mh hanno in qualche maniera riportato eh danni quindi sono quasi caustici i danni in buona sostanza sono paragonabili a eh ad un come dire all'ingestione di eh sostanze chimiche caustiche ehm lì dove i denti quindi parliamo di canini sono praticamente sono risultati avulsi dalla gengiva quindi si sono staccati e sono dovuti cioè praticamente sono i propri dali hanno dovuto eh estrarre addirittura i denti quindi ehm i danni sono molto molto seri molto molto importanti eh ovviamente spaventare spaventare non è mai buona norma ma sicuramente c'è da fare attenzione non è non è non è detto che tutti i cani che quando incontriamo la processionale il nostro cane debba andare in qual deve essere debba essere interessato quindi anche quello c'è da dire quindi non non inneschiamo noi stessi dei meccanismi di interesse da parte del cane sulla processionale perché molto spesso capita anche quello noi in qualche maniera inconsapevolmente inneschiamo un'attenzione sul cane nei confronti della processionale oppure di un oggetto che diciamo guarda stai attento stai non guardare quello c'è anche chi lo dice quindi nel senso ora io eh non magari non parlo non parlo in questo caso di persone che vanno tra il tubo ma persone normalmente vanno ai boschi che sono in qualche maniera un po' meno abbezze alle determinate presenze nel bosco eh per cui ecco bisogna sicuramente fare attenzione bisogna fare attenzione eh c'è Mattia Ferrari Dario che dice buonasera Dario aspetto Emilio per il bianchetto esatto 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 andremo andremo a Otranto questa settimana fine settimana e in qualche maniera speriamo di divertirci bene bene invece guarda sono riuscito a leggere chat e mi ha incuriosito una domanda Salvatore non ricordo il cognome eh che eh parlava appunto della bonifica di un'eventuale eh a caceto ehm sì Salvatore Bonfiglio te la metto qua sì te la leggo sì per per Sergio ma è interessato anche Dario quindi partiamo con Dario si può bonificare una caceta e realizzare una tartufaia coltivata mi hanno detto che ci vale un diserbante apposito per la caccia la domanda è il diserbante da problemi alle spore eccetera allora io sono interessato semplicemente perché in qualche maniera ehm e e e parte di un mio progetto nel senso una un un terreno eh di a caceto che praticamente ehm abbiamo abbiamo eh con permesso ovviamente della forestale eh abbattuto o ridotto comunque le l'essenze ehm e mia intenzione è renderlo tartufaia coltivata a bianchetto quindi con pinola leppo probabilmente ehm allora io ovviamente ho scelto di non usare il diserbante sicuramente perché immagino il pugliero ovviamente conferma a Sergio penso che sicuramente non sia eh l'approccio giusto per per in qualche maniera iniziare un lavoro su una tartufaia però ecco magari mi sbaglio perché ehm ecco poi magari Sergio mi dice però ehm la casa è veramente veramente complessa da gestire io eh quello che ho fatto in maniera biologica in quanto stessa ho dovuto ho recintato il tutto e ormai mh sono due o tre anni che ho un greggio di 40 capre che pascola in maniera ininterrotta sul sulle ceppaglie e qualche maniera sta ehm facendo in qualche maniera morire eh tutte tutti quelli stracci insomma di ehm di 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 Acacia che in qualche maniera tendono in primavera a venire fuori quindi ora eh sono anch'io a chiedere a Sergio cosa pensa dell'approccio se pensa che in qualche maniera possa comunque in quella in quella in quella situazione ehm riuscire una piantagione a essere se giustamente migliorizzata ad avere una un futuro insomma. Allora la prima cosa magari non per dare non per Dario che la sa ma per i nostri i nostri spettatori allora prima cosa a fare è andare a verificare le idoneità del sito per l'impianto di quel tartufo che abbiamo in mente perché una tartufaia è diciamo l'output comunque sia il risultato che sia a valle la messa in atto ad un progetto di tartuficoltura quindi nella fase di progettazione della tartufaia va tenuto in considerazione anche del tipo di tartufo della capacità di approvvigionamento idrico che c'ha quel sito e va fatto un un test in un laboratorio accreditato per capire le caratteristiche del terreno. Prima cosa le caratteristiche fisiche quindi la tessitura e poi quelle chimiche quindi quelle più importanti sono il calcare attivo, il calcare totale, il grado di reazione e la percentuale in materia organica. Quindi fatte queste premesse valutato che il sito idoneo all'installazione una tartufaia di un genere di tartufo coltivabile ad oggi il discorso della caccia è di sicuro una una andare a estirpare una pianta tra virgolette infestante è di sicuro una cosa non di poco conto però allora senza vedere l'impianto in che posizione sta mi risulta di fielora se il campo in cui si estende questa caceto è pianeggiante o comunque sia a una a una pendenza che fa sì che possa essere lavorato con dei mezzi pesanti il consiglio che do io è tanto per fare un impianto di tartufaia devono essere fatte delle lavorazioni andanti il terreno per preisporlo quindi al posto di fare una rippatura io farei uno scasso a 60 centimetri e andrei a tirare fuori tutti gli apparati radicali i polloni radicali di queste essenze che poi manualmente andrò a prendere a togliere nella primavera dopo la terra molto morbida appena vedo che ricaccia una caccia vado lì e tiro fuori tutta la radice la butto a una parte la brucio quindi un lavoro un po' certosino per un paio d'anni e non consiglierei l'utilizzo di discerbanti una tra le nazioni europee più più produttrici di tartufi neri preciati che è la spagna e anche quella che utilizza più discerbanti in tartuficoltura allora è chiaro che le percentuali di discerbo che si possono applicare a una tartufaia produttiva sono chiaramente molto molto più basse rispetto a quelle delle altre culture o delle cultura del tabacco e quant'altro però si si utilizzano anche dei discerbanti adesso non ricordo la tipologia però posso approfondirla perché l'ho studiata in un testo di tartuficoltura e io la sconsiglio semplicemente perché in un panorama agricolo forestale che si spinge sempre più verso il green verso il biologico verso il biodinamico andare ad applicare troppa chimica secondo me la vedo come un demerito al posto che un merito quindi per avere anche un prodotto finale più genuino e che comunque sia non abbia risentito e non abbia assorbito nessun tipo di di composto di sostanza ricordiamo che i funghi in generale nello specifico soprattutto il generagari così cosiddetti prataglioli sono quelli che tendono a fare più da spugna e tutte di tutta la chimica è sciolta nel terreno inclusi metalli pesanti ma in generale tutti i funghi sono degli assorbitori di qualunque cosa è disciolto nel terreno sia che sia buona sia che sia cattiva adesso ci stanno degli studi di qualche anno fa che poi ho smesso di seguire che sta valutando la capacità dei funghi di rendere inerti metalli pesanti perché nei loro processi metabolici tendevano a fare degli ossidi che risultavano inerti per il l'organismo umano questa cosa era stata studiata anche per la bonifica da isotopi radioattivi perché non si stava osservando che determinati funghi potevano comunque sia rendere inerti degli isotopi di metalli pesanti radioattivi e quindi adesso ammesso non concesso e questa cosa sia vera io sconsiglio l'utilizzo di troppa chimica perché nonostante i funghi siano delle degli organismi tra virgolette macici però di sicuro bene non fanno questi questi composti ecco per cui sconsiglio consiglio lavorazioni andanti più pesanti quindi scassi del terreno che portano in superficie ripature per buttare su tutto quello che c'è sotto terra e poi come si faceva una volta andare lì e togliere pezzetto per pezzetto quando in primavera la fase vegetativa della pianta riprende dove c'è un pezzetto di radice si vede perché inizia a dare fuori allora andare lì con una piccola vanghetta allargarsi e togliere tutto il pollone radicale che sta provando a ricacciare in un paio d'anni ok grazie risolvere il problema grazie mi sono assolutamente esaustivo allora Ferdinando si grande ho visto che ce l'hai fatta tramite il link super non sei su facebook vabbè fa niente ci sentiamo su 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 instagram che ci siamo sentiti oggi oppure tramite whatsapp restiamo comunque in contatto e avrai tutte le news oppure comunque se segui il canale di youtube c'è anche la tab community di youtube dove metto dove faccio i post quindi quindi non non c'è problema per quello e grazie allora c'era una domanda di carlo viotti che tra l'altro già volevo volevo riprenderla mi ha anticipato perché appunto lui dice ciao un cane o un cane di cinque anni già avviato al naturale su bianco e neri vari può scoprire tartufaglia di bianchetto secondo voi allora carlo assolutamente sì quello che volevo dire però che prima quando parlavamo del bianchetto che è un ottimo tartufo per per andare a far fare la transizione al cane perché appunto come l'estivo anche può essere di facile di facile reperimento per il cane perché appunto non è molto profondo viene copioso in poco spazio però quello che ho visto io è che un po il tartufo per mia esperienza e non so se poi ci siano delle basi però ho visto che è il tartufo su cui i cani fanno un pochino più fatica a trasporre da una tipologia all'altro ovvero ho visto cani anche esperti come può essere il tuo caso magari andare un pochino insieme sul bianchetto o cani giovani avviati sull'estivo il bianco nero pregiato che sul bianchetto non hanno fatto quel passaggio in automatico altri cani l'hanno fatto in automatico però ho visto che è l'unico che magari se li si accompagna può essere un po meglio quindi anche se nel momento in cui sia un cucciolo e si vuole fare la transizione sul bianchetto secondo me in generale bene farlo ma col bianchetto in particolar modo è bene procurarsene un pochino prima e farglielo e farglielo farglielo annusare quindi già utilizzare il bianchetto in simulazione quindi Carlo se hai dei posti poi vai già da un po e vai già bianco a neri se hai già dei posti dove sai che il bianchetto può venire o ti hanno detto che ci sono tartufaie di bianchetto perché appunto non sono così spesso segrete come quelle di bianco e dando tartufi in maniera copiosa anche se sono battute comunque per il cane qualcosa qualcosa salta sempre fuori comunque ti consiglierei di farglielo farglielo annusare un pochino prima Sergio poi ti chiedo cosa ne pensi rispetto all'emanazione del bianchetto poi c'era anche Ferdinando prima che ci diceva che il meandriformis all'esterno è uguale al tuberborchi però come l'impressione che sia meno profumato una domanda alla volta la prima qual'era davide scusa rispetto alla differenza di ma se c'è una reale differenza di emanazione tra il bianchetto di di correla di di vicinanza ad altri tartufi se questa sensazione che io ho visto da un punto di vista della della pratica può avere un qualche una qualche risultanza scientifica eh il bucchetto del bianchetto è molto particolare ed è molto persistente ha un se uno mette dei bianchetti in un baratto e li apre eh la percezione immediata non è quella di avere un tartufo come possa essere un bianco un nero o un o un estivo che in una in uno spazio molto confinato per un periodo prolungato la l'essenza del bouquet che tende a a scoprire di più è il classico aroma del tartufo che poi quello più presente nel tartufo bianco eh nel bianchetto questo non non avviene perché il bouquet è completamente diverso quindi eh anche i quantità di bismediltio metano per quanto so sono più bassi rispetto agli altri tartufi e secondo me quello che dice è corretto nel senso che con un bouquet così diverso la possibilità che il cane inesperto si vada a confondere è sicuramente più elevata allora io adesso non sono un cinofilo un cinotecnico come voi per cui vi parlo di mia esperienza diretta e personale con i cani che ho avuto con il cane che ho e quello che ho notato è che tra gli springer rispetto a il al curzar la differenza sui tartufi abissale perché il curzar è discrimina molto di più se uno va bianco e va in cerca di bianco il cane tenderà ad andare sulla bianco e poi allargerà su altre specie quando dopo i primi venti minuti mezz'ora non si va all'incontro allora andrà anche su caciole su brumale però quando lui associato la gioia di quel posto a una determinata essenza di tartufo la priorità dal punto di vista penso mentale la va a dare a quel tartufo ecco gli springer ci sono voluti 12 anni per ottenere questa questa cosa alla fine anche loro ma all'inizio lo springer è un escavatorino che qualunque cosa gli ricorda il tartufo lo tira fuori indistintamente e quindi ho trovato il curzar molto più discriminante rispetto rispetto agli springer e io l'ho già detto anche l'anno scorso il bianchetto non è uno dei miei delle mie punte di diamante per cui con gli springer praticamente non andavo e negli ultimi anni di vita neanche li cavano più proprio perché non gli davo più interesse erano diventati come come delle caciole per il cane con il curzar l'anno scorso ho fatto delle simulazioni adesso quest'anno le riprenderò dopo un'ottima stagione di tartufo bianco per un cane di un anno e proviamo a fare la transizione e vediamo se c'è qualche difficoltà secondo me potrebbe averle proprio per questo fatto che tende molto a discriminare i vari i vari odori ma per dirvi una cosa poi lascio la parola in una tartufaia coltivata di tartufo nero preciato in cui c'era nero preciato la prima volta che l'ho portato ha discriminato e ha tirato fuori eh una decina di tuber brumali che faceva nei margini la tartufaia ho fatto un addestramento il giorno successivo con del tuber melanosporo un congelato sono tornato il giorno dopo ho tirato fuori solo un ero preciato e ignorato completamente i brumali quindi adesso non so la ragione però secondo me è un fatto che il cane tende a discriminare più rispetto che un'altra razza o magari il soggetto non lo specifico non lo so Sergio già che stavi parlando di nero pregiato c'era Matteo Fantini che voleva un piccolo recap veloce veloce altitudini altitudini piatti simbionti e terreno del melanosporum guarda da quest'anno datti al bianchetto lascia perdere il nero pregiato no scherzi a parte allora il nero pregiato è un negli ultimi dieci anni si è spinto verso l'alto prima bibliografia le altitudini preferite erano intorno ai trecento metri adesso sicuramente gli areali preferiti sono dai quattro e cinquecento metri questo per un fatto di cambiamento climatico a trecento metri mediamente in Italia le strati sono troppo siccitose quindi senza irrigazione appunto al naturale la probabilità che tartufaia siano morte morte è molto molto elevata e il terreno sono terreni in cui la percentuale di scheletro è molto elevata e dove la parte di terre fini dei di terra fine del del terreno è sabbio solimosa e praticamente sono quelle terre brune che si sono ottenute dall'evoluzione di argille rosse solitamente quelli sono i terreni più vocati in cui la terra rossa è ricca di ossido di ferro e di sicuro le esposizioni devono essere molto assolate il tartufo nero pregiato predilice la radiazione diretta del sole che lambisce il pianello per un fatto suo vegetativo ed è la ragione per cui si sta estinguendo perché le stati sono sempre più torride e al naturale purtroppo non c'è la possibilità di fare irrigazione ed è un tartufo che se c'ha ombra muore o si imbastardisce con brumale poi soccombe e si esprime soltanto in boschi molto molto assolati quindi molto aperti e con queste state torride tende a morire quindi secondo me in italia se l'andamento climatico è questo l'unica alternativa sarà il tartufo nero pregiato di cultura e che altro dovevo inquadrare del nero pregiato? No questo questo c'era l'altra domanda che era sul meandri formis all'esterno uguale al tuber barchi però come l'impressione che sia meno profumato? Eh sì sono d'accordo anch'io su questa cosa. Ok allora io andrei verso la chiusura Dario tu avevi qualche? No direi di no. Ok perfetto allora io padre hai visto che abbiamo se è fatta una certa come si dice a queste parti io saluterei tutte le persone che sono state in live numerose fino alla fine qui con noi per gli ultimissimi vi ricordo che potete ancora lasciare un like se il contenuto vi è vi è piaciuto questo aiuterà a far circolare di più questi contenuti e quindi Sergio grazie Dario grazie mille. Grazie a voi. Grazie a voi che ci seguite. Con voi lunedì prossimo. Cosa Sergio? No dicevo grazie a tutti che ci seguite ci vediamo lunedì prossimo dai. Va bene buonanotte a tutti. Ciao e grazie.